Salento buono tutto l'anno, il titolo della guida a disposizione di turisti che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze nella splendida terra all'estremità della Puglia. All'abito di Milano non poteva mancare quell'angolo di paradiso che si conferma anno dopo anno meta di milioni di vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo. Fondamentale dunque l'idea di realizzare un tutor cartaceo capace di accompagnare per mano quanti si recheranno far visita al Salento in un percorso tra storia, tradizione, cultura, divertimento, mare, deno, gastronomia. A cura di Alessandra Pizzi, Salento buono tutto l'anno, un titolo quanto mai appropriato per una terra cavace di farsi apprezzare 365 giorni l'anno. Un viaggio dunque alla scoperta dei migliori ristoranti, bar, enoteche, eventi, centri benessere, negozi, uffici, artigiani di Lecce e dintorni. Una guida che offre anche la possibilità di consumare gratuitamente pranzi o cene, ricevere omaggi, comprare con sconti vantaggiosi, presentando un coupon direttamente ai partners selezionati. Questo è l'augurio che poi è la base di questo progetto che si chiama appunto Salento buono tutto l'anno, che è un modo insolito per promuovere il territorio, perché a fronte di tantissimi prodotti editoriali che comunque raccontano di itinerari turistici, di monumenti, di bellezze architettoniche di cui tutta la Puglia sicuramente è dotata, e ho inventato questo racconto con un criterio differente, quello di raccontare appunto il territorio partendo da quello che di buono il territorio offre, quindi strutture recettive, alberghi, centri benessere, negozi, artigiani, creativi, per offrire appunto al turista un itinerario insolito, un modo nuovo di vedere, perché se è vero che le bellezze del romanico piuttosto che del barocco, se si parla del Salento, sono fonti di attrattiva importante, è pur vero che il turista quando viene in un territorio spende, compra, vive, quindi comunque produce economia.